...e proprio i primi anni di vita dei loro piccoli, e insomma, se direbbe forse, sono molti attività che si possono permettere. Tra la cultura, l'unità di tutta quella di Rosano, seguita dalla Lombardia, mentre in fondo la passività della secondità si trovano a morire da sinitari in Sardegna. E così le cule restano vuote, mentre resistono a morire. Sono 4.000, 3.000, 9.000, 9.000 e più di 80.000, 7.000, 7.000, 7.000.